La mappa non è buona, perchè c'ho Raga, io ho le build L'odio sto gioco perchè continuo a tenermi le build Le vostre build che voi mi date Con i perk di merda Tipo Overwhelming presence, non so cosa farmene Letteralmente non so cosa cazzo farmene Che noia Vabbè, almeno sono riuscito a tipparmi Non riesco neanche a tipparmi, ok, perfetto Guarda come vogliono tutti Di togliersi sto coso Ma quanti gradi ci sono da te? Non lo saprei dirti bro nel momento Nice, siamo riusciti a tipparci qua Non riuscivo a capire dove Ma siamo riusciti a tipparci Questo è ottimo come tp Perchè ci ha fatto guadagnare tanto spazio Spacchiamo velocemente perchè siamo in overcharge Abbiamo hitato tre persone diverse Quindi è comunque Abbastanza Pressione perchè o si curano O rimangono feriti Devono prendersi gli np e toglierselo Cioè hanno tante cose da fare In questo istante E devono prendere una scelta Bene, l'abbiamo anche lanciata lontano Si sono tolti il coso, ok, però Va Il fatto che abbiano fatto main non è buono Aspetta quale guardare, maledizione Nice Freak C'ho un po' di cose da eliminare Stavamo facendo quello lì sotto Qui devo eliminare queste cose che sono inutili Almeno ce l'abbiamo qua fuori Così possiamo vederlo Probabilmente che vanno a fare il save Vorrei aspettare il second stage Ma non voglio neanche camperare Finalmente l'evento è finito Se Assolutamente Peccato C'era il god qui Sono andati di là È probabilmente che stanno facendo quello lì Che si era bloccato Nessuno è qua fuori È in ad classifica Ah, secondo me non ci arriva È ok però A me non dispiace Ottimo Questo è ottimo Ed è per questo che abbiamo fatto bene all'inizio A hittarne più di uno Non so dove sono gli scourge però Devo andare Ciao Mattix Buonanotte caro Grazie a essere passato Vai a fare il save Poi prendiamo lui Il mio problema sono gli scourge Che sono veramente in brutte posizioni Proprio guardandoli si vede che sono Forse l'unico che è buono è quello lì Comunque a mio avviso potrebbero fare Che puoi trasformarli tu in scourge A tuo piacimento Quelli che vuoi In modo tale da togliere l'RNG Però dovresti set a fare un po' di più Ciao GataShed Buonasera caro Benvenuto Come stai Nice Ciao Ronald Bella Snake ho visto il video oggi con l'Hantras Ho giocato Nemesis sulla stessa mappa La doppia finestra Sì Assolutamente Eh uno è già morto Sì Penso che io sia l'unica persona non normale Visto che dormo con le lenzuola Snake 08 paura Snake 08 paura Dormi con le lenzuola Ma finchè non dormi col piumone va bene Che se ne frega che dormi con le lenzuola L'importante è non avere il piumone Adesso Ok abbiamo riattaccato Lo schifo Nice Best TP ever Al pelo No no col piumone Adesso è in bagliaccio Negli inseguimenti diciamo che me la cavo Per essere il primo giorno Perché in una partita Con il inseguimento ho fatto completare Uno e mezzo tipo Ed ero contro la cacciatrice Buono allora Complimenti Io dormo col piumino Eh siete tutti dei malati Di niente Che vedevo di E io dormo in mutande Bello c'è il Senza niente sopra Con il condizionatore Che mi punta in faccia Praticamente Questo è come dormo io Ho già dato se Ok Però il piumone è estivo Ah beh Allora Se il piumone Oh guarda aspetta Bam Nel corno E poi minù sopra Sì Minù sopra Può essere Non ci passa Torso di lì Eh dai Eh oh Eh tipami Eh che cazzo Ci ho provato ma Era un po' Lontanino Stanno andando Da nessuna parte Qua È praticamente Un hit Assicurato Esattamente Broni Broni Grazie mille Grazie mille Dall'abbonamento Regalato a Feldrin Ragazzi Cuoricini in chat Per Broni Grazie mille Grazie mille Grazie mille Qualcuno qua Mancava la sub Io pure Mutande Cannotiera Condizionatore A 16 gradi Non spettacolo Eh già Per forza Cioè Non è possibile Ciao Mardor Comunque Buonasera Caro Come stai Te do anche Rimettere il sound Non vedo Vista danneggiata E mettiti Un paio Di occhiali Che non c'è più pallet Oh che bello Che non c'è neanche L'evento Che non stare qua Attento Che mettono pallet Finti E cose E quant'altro Posso tirare dritto E andare Su Dovrei riuscire Ad arrivarci Prima del save Assolutamente DJ Stato Gli iscritti Del concorso Tra i poveri Da 6 ore Ciascuna Da morire Da settembre Ci si guardano Di nuovo ogni sera Mi fa piacere Mardor Come sono andati Comunque gli iscritti Domani Domani Riconquisto il podio Ciao Samuel Buonanotte Grazie di essere passato A domani GG Notte mini clown Ma no Ma perché Poverino Niente Broly oggi È troppo salato Non capisco GG Questo aveva Unico Sopravvissuto E sveglia E ha portato RPD Ah Questo mi sa che Stava facendo La quest Di scappare 20 volte Dalle porte Di RPD Perché c'ha Unico Sopravvissuto E sveglia E ha portato RPD Mi sa che doveva Far la quest Non capisco